Presidente Campitelli, si cambia di nuovo, arriva Palladini, via Asta, decisione maturata, se vogliamo nel weekend, insomma non ti è scesa quella sconfitta con il Vicenza di Sabato? Assolutamente no, ma non mi è scesa, cioè a piccoli passi poi si arriva a certe decisioni, perché c'ero troppo negatività, un modo di essere quello che sono io nella vita, bisogna essere sempre positivi anche nei momenti più negativi e poi questi troppi cambiamenti durante la partita e durante la settimana. Quindi si è deciso così, il progetto con Asta finiva a giugno e varsa la pena ripartire già che stiamo avvantaggiati in futuro. Quindi spero che Ottavio per la sua grande umiltà, la sua saggezza ci possa portare più su possibile quest'anno e poi ripartire con un bel progetto per il prossimo. Hai parlando in conferenza stampa della posizione di Giorgio Repetto, Presidente, lei ha detto quando tornerà parleremo con lui, ma ne hai parlato anche un po' al passato, come se Giorgio Repetto fosse già il passato del Teramo, perché sembra essere Sandro Federico il prossimo direttore sportivo del Teramo? Ma credo che Giorgio è una persona di alto livello, di alto profilo, ma è un mio pensiero. Credo che questa categoria, l'ho detto più di una volta, per la sua grande professionalità sia stretta, perché Giorgio è uno scopritore di talenti. Quando tu scopri un talento poi lo devi acquistare. Oggi in Serie C puoi acquistare solo le pezze, i pantaloni, perché non ci sono soldi e quindi credo che un talento come lui non si potrà mai appassionare in Serie C. Questo è il mio parere e quindi noi abbiamo bisogno di un altro tipo di lavoro, di un altro tipo di approccio per quello che noi vogliamo fare. Tipo Sandro Federico? Potrebbe essere. Possiamo dire che è un matrimonio che si doveva fare e che poteva già esserci qualche mese fa. Ma ci erano state tante voci, poi di concreto non c'è stato mai nulla tra me e il Presidente. Ci conosciamo ma non ci siamo mai parlati su questa realtà che poi è avvenuta in questo momento. Ripeto, ringrazio il Presidente che mi ha dato questa grossa opportunità. Non ci ho pensato due volte perché poi voglio rimettermi in discussione, voglio cercare di fare qualcosa di importante per me, per il termo e per tutto l'ambiente. Cercare di fare quello che è stato sempre il mio modo di fare, cioè lavorare con la massima umiltà sia da allenatore che poi da giocatore, quello che ho sempre fatto. Cercare di sudare i ragazzi sempre perché solo così possiamo arrivare agli risultati. La Rosa la conosci bene, l'hai già vista, hai già visto giocare il Teramo. Quali sono secondo te i punti di forza e quelli di debolezza di questa squadra? Ma è una squadra che secondo me non ha mai sofferto più di tanto l'avversario. Poi nell'arco della partita certo ci sono i momenti che soffri. Penso che sia nella naturalità delle cose che questo accadano, però penso che sia una squadra che ha delle qualità, delle qualità che vanno migliorate, che vanno fatte sul campo con il lavoro e che possa fare ancora meglio di quello che sta facendo.